buongiorno buongiorno buon mercoledì a tutti grazie ad Alberto Bisiri ci ritroviamo nella prossima nottata un giorno l'alto devo chiedere Alberto però giusi di salutare che la forza sia con voi beh molto cinematografica come citazione le mie passioni ogni volta al mattino gli sento chiudere per tradizione ed è bellissimo il programma in un certo modo mi piacerebbe la frase che la forza sia quindi non più solo l'energia ma la forza buongiorno che la forza sia con voi mercoledì 30 settembre giusi le grenzi in forma smagliante buon dì buongiorno buongiorno Giuliani tutto di bianco vestito sembra pronto per la comunione detto così sembra un gelataio ma non del tutto solo nella metà che si vede sopra il tavolo noi siamo qui noi siamo sotto il tavolo già fatto il riferimento dicevamo a questa chiacchierata notturna dei due serena dei due caspita addirittura un Trump che non faceva parlare Biden Biden che ha mantenuto una plomb insomma che sarebbe un po' la sua cifra il suo modo di porsi quindi se volete c'è anche questo ma ce ne sono mille di argomenti allo 0 2 25 15 15 che dire hanno preso un po' spunto dai talk italiani ma in realtà siamo noi che abbiamo imparato dai talk americani però in questo eterno girare in questa ruota che non si ferma mai si può arrivare a dire anche questo 0 2 25 15 15 per esempio interrompere un trucco vecchio come il cucco no quando magari hai una certa povertà di argomenti allora non fai parlare l'altro fai cacciara e via ma in generale voi di che cosa volete parlarci siamo qui 378 37 800 25 per i vostri messaggi e subito condividiamo o chiediamo di condividere quelli di Antonio che ci aspetta in diretta Antonio buongiorno buongiorno Giussi buongiorno Fulvio ciao Antonio ciao ciao io volevo solo condividere con voi la mia gioia per partire per le ferie perché dopo tantissimi mesi finalmente andiamo anche il mio turno che bello che bello 30 settembre direi che se le sei meritate caro Antonio dove andiamo di bello dai allora riguarda io stasera parto per Napoli poi dintro domenica faccio un viaggio di Madagascar perché finalmente hanno riaperto gli aeroposti per il nostro Sibirio dal primo ottobre ho fatto il biglietto e un mese vado lì un mese? ma caspita sì perché io vado spesso sono rientrato il 26 gennaio sono andato a lavorare non mi sono fermato un giorno neanche i festivi perché consiglio farmaci quindi vabbè figuriamoci è stato in tutte forze certo però dice hai accumulato molto lavoro per accumulare un po' più vacanza adesso te ne stai via di più posso anche qui diciamo un'euforia e un'energia eh beh ti capiamo Antonio lo hai accennato tu sei napoletano d'origine si sente non ci vuole un genio ma c'è anche parlato di un passaggio napoletano prima del Madagascar caro Antonio portaci con con te però è con l'app magari mentre sei spaparanzato pensaci certamente certamente comunque voglio dare solo gli auguri a mia madre perché il frutto che compio gli anni insieme alla mia mamma ecco perché vado giù in anticipo qualche giorno il compleanno bravo faccio il compleanno con lei e poi parto sperando che tutto va bene sei un organizzatore perfetto prima il compleanno ormai è bresciano Giuseppe capito è diventato più come noi adesso sì 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 sono metodico ormai bravo nulla al caso Antonio nulla al caso poi Antonio diciamo la parte la facile battuta perché vivi a Brescia non è che tutti i napoletani siano casinisti non tutti i bresciani sono iper organizzati io ne conosco uno molto organizzato ce l'ho di fronte no beh no su quello no è organizzato però preciso insomma Antonio vieni a dare lezioni no è una questione caratteriale bravo è vero è vero senti Antonio mentre te ne vai in Madagascar però lasciaci con questo pensiero perché non l'hai detto in apertura alla fine ah è del TN secondo 2,5 anche mia e portaci in Madagascar grazie siamo con te ciao Marco ciao Antonio scusami scusami ciao Antonio perché Marco è con noi 0,2,25,15 come stai Marco da dove? io sono di Firenze sto venendo da voi a Milano RTL da 25 anni è mia bravo e stai venendo a Milano per lavoro? vado a Pioletello Pioletello sì siamo nella cintura sud di Milano sì è giusto vado all'Esselunga sono un dipendente in realtà no ho sbagliato sono un dipendente dell'Esselunga bene buon lavoro buon lavoro allora Marco dai un saluto a chi oppure di quello che ti pare allora oggi quando alle 4 torno a Firenze e gli consegno le chiavi dell'autotreno è il mio ultimo giorno di lavoro finalmente vado in pensione scusa Leo abbiamo bisogno di te Leo no dai ti prego merita oggi riconsegna le chiavi dell'automezzo e mai più ultimo giorno di lavoro viene a Milano torna a Firenze molla le chiavi saluta del camion e saluta vado dal mio caporeparto è qui la cosa si fa interessante attenzione fermi tutti vai Marco quando ho le chiavi gli dico siccome lui tutte le mattine o tutte le sere ci dice a me ai miei colleghi correte perché dobbiamo fare lo stipendio a tutti gli dico adesso corri te per farmi la mia pensione vedi c'è un momento di rival si è un po' Biden Trump no ma no perché finiva insulti però quello che dice il tuo capo poi tutto sommato è una battuta è una battuta è una battuta è vero però lui prende in fondo all'anno prende il premio produzione noi sono sempre i soliti non entro nel me non entriamo in questa cosa per carità avrà le sue responsabilità di sicuro sei contento di sicuro insomma stai iniziando una seconda fase hai già delle idee su cosa comincerai a fare magari non subito prima lasci passare un po' e poi c'è qualcosa che ti piace fare che non hai fatto finora nella tua vita allora continuo a fare quello che ho sempre fatto avendo diciamo tra virgolette il pomeriggio anche libero mi godo la mia pensione a funghi e a caccia che meraviglia quindi hai questi hobby già sai io l'ho detto tra l'altro qualche giorno fa ti ricordi giusto che chiacchieravamo con un amico in procinto di gli abbiamo augurato però anche tanti viaggi assolutamente se riesce a spostarsi a viaggiare insomma se ha voglia se gli piace l'idea perché non a tutti piace viaggiare no è vero lo abbiamo ricordato però insomma arricchisce quindi te la buttiamo lì caro Marco e non essere troppo cattivo col capo tanto lui rimane lì a lavorare sì superiore sì superiore ciao ciao Marco in bocca al lupo per tutto Francesca 02 25 15 15 da dove Francesca benvenuta su RTL 125 allora RTL 125 è anche mia sì è da Tornaco provincia di Novara mille anime un paesuccolo un paesuccolo un paesino è il compleanno di mia figlia diciassette auguri e non so se mi sta sentendo o non lo so niente viene da piangere comunque come si chiama? lo sapevo è Lucrezia ecco Lucrezia come la nonna la nonna che non ha neanche conosciuto perché però era breciana mi viene in mente la telefonata di prima che mi diceva siccome abitavamo in cascina faccio veloce e mi voleva bene mia socia e mi diceva che la fiole non so se non parlo breciano io tranquilla che la fiole lì te la farei parla strada una roba del genere perché eravamo in cascina strade sperate bucchie eccetera quella ragazza lì ma non l'ho capito la seconda parte parla strada no? la farai quella bambina lì ero incinta quella bambina lì la farai tanta strada farà tanta strada farà tanta strada questo diceva come si dice in breciano quella fiole lì quella bambina lì la farà parla strada una roba del genere la farai per la strada per la strada avevi ragione tu lo farai per la strada perché eri sempre in movimento e sempre lì bello che Lucrezia stia qui e sia una meravigliosa diciassettenne ce la baci da parte nostra va bene Francesca auguri auguri ciao sveglia che va Stefano da Albenga anzi Stefano te il compito di svegliare l'Italia benvenuto svegliare l'Italia per me è un po' difficile perché è da ieri alle 8 e mezza che sono svegli ma ti sentiamo canto RTL RTL 125 anche mia buongiorno Giussi buongiorno buongiorno Stefano beh anche tu pare hai una buona notizia sì vado in vacanza sabato l'ultimo giorno dopo un difficile anno diciamo a parte l'epidemia e non abbiamo mai smesso di lavorare luglio agosto 430 ore ogni mese che lavoro fai Stefano? faccio un po' un panificio con mia moglie dopo un collega un collaboratore si è fatto male e ho dovuto sopperire io il suo lavoro quindi ciao estate però sabato me le godo tutti mi sembra una scelta adeguata anche perché poi figurati ai primi di ottobre la Sicilia per uno abituato al nord è una dimensione parallela io guarda sono andato due anni fa e ci ritorno quest'anno perché mi sono trovato bene prima era bellissimo e la Sicilia beh a parte un po' la pulisca delle strade però fantastica vabbè diamo una mano però che ciascuno faccia la propria parte bravo senti Stefano riguardo prima chiacchieravamo ci siamo un pochino divertiti è una curiosità libero anche di non rispondere ma a pelle Trump o Biden proprio così secco Trump perché secondo me essendo lui uno degli uomini diciamo più potenti e ricchi del mondo secondo me la vede lunga la vede lunga poi paga le tasse è uno che vero perché noi le paghiamo tutte ecco dai scherziamo un po' sono battute va bene è inevitabile con quello che è successo e anche stanotte devo dire ciao Stefano grazie mille buona giornata a tutti buona giornata buone vacanze veramente ragione giusi oh vi ricordate tutti qui la battuta è inevitabile credo sia una maledizione per il nostro prossimo ospite allo 02 25 15 15 15 il film di Benigni eccoci perché lui si chiama Johnny ci chiama da Cassino ecco che carino con stecchino eccoci qua Johnny e magari fossi stecchino magari comunque RTL 125 e anche mia grazie di invito buongiorno buongiorno caro Johnny da dove e quanto pesi scherzo scherzo perché dicevi dicevi che non sei stecchino quindi no vabbè 95 kg di simpatia e allegria ma dipende sempre poi sai distribuiti bene lungo un corpo lungo di 1,75 vabbè abbiamo qualcosa da fare ma non sei solo caro Johnny allora di che ti va di parlare questa mattina con noi ma questa mattina no niente un saluto a tutta l'Italia a tutti i ragazzi che vanno a scuola io preparo qui la colazione per i miei tre figli sono in smart già da un'oretta in modo che mi anticipo un po' i tempi per gestire e poi la famiglia bravo dalle 5.30 i tre figli almeno i nomi dai così li salutiamo allora un saluto a Gianmarco che fa il primo superiore e Simone e Mattia che sono in prima media gemelli eh sì salutiamo anche la mia signora Maria Teresa eh giusto ma dai che ha fatto tanta fatica giusto dov'è Maria Teresa adesso si sta ancora riposando scende con calma scende con calma è la signora la castellata così lo lascia lavorare un'ora in smart senza essere disturbato bene Johnny dai allora buone faccende domestiche una bella immagine quella che arriva da casa tua devo dire di questo papà che mentre già comincia a seguire le sue cose segue anche i ragazzi pronti a volare a scuola verso la vita Johnny grazie di tutto un abbraccio a tutti andiamo da Maya e vediamo cosa ci vuole raccontare Maya buongiorno buongiorno da dove da Vicenza che facciamo di bello in questo momento cerco di correre un pochino ecco mentre ci parli aspetta un attimo perché se no poi non ce la fai a fare tutte e due le cose insieme magari sei iper allenata però ansima no zero però zero eh cara mia cara Maya e si comincia camminando infatti bisogna pur cominciare quindi grande lezione ci stai dando allora di che cosa vuoi parlare cosa fai di bello della vita dai raccontacela un po' allora di bello faccio la mamma canto in un coro gospel bellissimo di un po' meno bello lavoro in banca allora vabbè un signor lavoro domanda di rito com'è la situazione com'è la situazione mio figlio è a casa perché deve fare oggi il tampone a questo per sul fronte scolastico ha dribblato la domanda sulla banca Giuseppe però ti chiedeva e quindi quello è il fronte scuola vabbè il fronte affari business business cioè quello che vedi intorno a te lavorando in banca tutti i giorni o lavorando ma sei in smart working o sei in no no il mio lavoro è un lavoro amministrativo quindi devo essere lì a gestire le carte fondamentalmente eh vabbè l'importante è che queste carte vadano bene giusto? sì tante poche tante molte sempre beh quelle non mancano non mancano mai come i problemi cioè veramente questa è una cosa che mi colpirà sempre cioè tutto digitalizzato e rimaniamo sommersi dalle carte lo sai come la penso noi a volte poi abbiamo obblighi di digitalizzazione ma presentando copia cartacea che uno dice voi voi non state bene avete un problema evidente senti Maya sempre in queste nostre chiacchierate visto che è ovvio oggi c'è una notizia poi è appena accaduto hanno finito di mandarsi a quel paese alle 4 e 30 del mattino secco Trump-Biden io non ho capito cosa Trump-Biden Biden Biden vedi adesso quasi neanche domandare Biden ok va bene allora siamo uno a uno tengo segnato perché Biden curiosità Maya beh ho delle forti simpatie ok di quel tipo politico mi sembra di capire qualche antipatia per l'altro protagonista cioè le due cose insieme fanno vincere Biden sempre quello che paga le tasse lui è 7,50 oh 750 dollari anche nel 2017 non solo ciao Maya buona giornata un abbraccio buona camminata Ennio buongiorno Ennio da dove come stai buongiorno a tutti RTL 125 e anche mia ciao Ennio eccoti da dove Arma di Taggia provincia di Imperia mi sto recando al lavoro in provincia di Savona molto bene eccoci Arma di Taggia mi fa tanto quasi in Francia lì volevo siamo quasi di là o sbaglio quasi di là ci sentiamo più frontalieri che diciamo Liguri sicuro anche se il mio accento non è Ligure però di dove sei tu originario Ennio originario della provincia di Cosenza ma dal 90 che abito in Liguria ma infatti sei neutro è visto vero è proprio difficilissimo individuarti senti Ennio di che vuoi parlare racconta allora voglio parlare innanzitutto dire a mia figlia se mi sta ascoltando che è una splendida ragazza 19 anni ha iniziato l'università bene e gli auguro tantissima fortuna e che è il momento di studiare per avere un futuro migliore nella sua vita bellissimo pensiero quanti anni ha? 19 19 19 anni meravigliosa età ma anche età di decisioni è vero Ennio? eh sì ha deciso tutta l'altro una materia molto bella secondo me vorrebbe diventare la Mara Maionchi della televisione scienza della comunicazione con indirizzo musicale tutte queste cose ottima scelta un percorso complesso intrapreso da tanti ma conta il talento e il sacrificio lo dicevamo ieri bellissimo pensiero Ennio grazie di essere stato con noi grazie buona giornata a tutti e a te buon lavoro 02 25 15 15 telefoni sono aperti per voi perché a Chiarare lo dicevamo anche perché no abbiamo fatto due parole per esempio su Trump e Biden del resto l'eco di questi insulti sono arrivati ovviamente a tutti noi Teresa da Milano come stai? benvenuta buongiorno a tutti RCL 102 15 ci fa piacere mi fa piacere sentirvi e oggi volevo dire questa cosa qui allora mia figlia che ha 25 anni e le sue diciamo compagne di università oggi a Milano iniziano questo nuovo percorso di maestra perché finalmente sono uscite le graduatorie e finalmente hanno chiamato queste ragazze e quindi un grande in bocca al lupo prenderanno delle classi elementari sono molto agitate preoccupate hanno voglia di fare di fare la loro professione per cui hanno studiato tanto e quindi un grande auguri a tutti ancora questo beh è bello ci dai dei nomi il nome della figlia qualcuna delle compagne allora mia figlia si chiama Elisa la sua amica si chiama Camilla e poi c'è Giulia e l'altra si chiama Teresa bene tutte insegneranno sono quelle che conosco io ma è chiaro poi di un nutrito gruppo e insegneranno tutte tutte alle elementari giusto alla primaria come si dice oggi alla primaria eh lo so io continuo a dire elementari non dovrei ma è l'abitudine è vero Teresa forse capita anche a te no scuola sarebbe la primaria appena ci va Riccardo vedrai che la chiami primaria tra poco l'anno prossimo eh no no ancora non l'anno prossimo sì sì l'ho fatto più grande della settimana ancora un po' ancora un po' senti tanta emozione di tua figlia immaginiamo assolutamente sì ora poi pensavo che quando lei iniziò la prima troviamo una maestra di prima nomina e insomma da genitore devo dire che questa ragazzina perché hanno 25 anni ma sembra che si abbiano 18 faceva un po' avevo dei dubbi diciamolo onestamente l'ho detto anche alla maestra quando poi finì la punta quindi posso anche dirlo si chiama Simona ed è stata bravissima con l'entusiasmo diciamo della gioventù ovviamente andrà così anche a tua figlia scusaci Teresa ma il telefonino ci sta abbandonando perché non si sentiva un granché adesso in questi secondi ci dispiace tantissimo ma il concetto è abbondantemente passato e soprattutto l'imbocca al lupo a questo bel gruppo di ragazze e di insegnanti soprattutto ciao Teresa c'è Giovanni sempre allo 02 25 15 15 da dove Giovanni come stai? buongiorno grazie Fulgo sto bene arrivo da Reggio Emilia direzione Milano lavoro a Milano perfetto allora Giovanni ha fatto delle profonde riflessioni durante il lockdown vai beh signore il lockdown ci ha stretto un po' tutti l'animo perché è stato dura no? per tutti però però la famiglia mi ha mi ha spinto a dire perché se vuoi fare una cosa non la fai veramente no? e allora abbiamo deciso con gli amici di organizzare un bel viaggio ci vorrà tempo perché è lungo e siamo un gruppo di artisti di andare in America a fare cost to cost 66 meravigliosa allora però fammi capire la organizzate proprio da campioni del mondo cioè con tanto di trasferimento dei vostri mezzi o noleggiate? stiamo stiamo valutando perché ci sono ci sono delle alternative la prima l'ultimo scoglio è il grano perché si usano tanti soldi ti credo però però stiamo impegnati su quello si può fare quanto costa? curiosità spedire un'area no tutto il viaggio spedirla non lo so sinceramente non lo so non pochissimo ti parla secondo me nave 5.000 euro secondo me non bastano tutto? tutto il viaggio non per spedirla no no solo spedire la moto però sto dicendo cifre a sentimento non ne ho idea sinceramente non credo che puoi spedire con 200 euro a occhio no assolutamente magari non saranno 5.000 mi informo però secondo me non superiamo i due oh ragazzi c'è attraversato oceanica di un mezzo che va poi ovviamente assicurato non è una persona la metti lì la moto la metti lì pardesciufoli se poi la trovi a pezzi lo sbarco voglio vedere l'ho messa lì ti immagini a Giovanni ciao Giovanni buon viaggio buongiorno anche a Paolo allo 02 25 15 15 da dove Paolo? da Bergamo sono da Bergamo ciao Paolo buongiorno siamo qui per ascoltare quello che vuoi dirci ok allora RTL è anche mia partiamo bene ma tu sei di Bergamo curiosità no punti da per la precisione ah beh quindi sei bergamasco voglio dire sei aerobico puro bergamasco mi avevi fregato all'inizio ok vai che ci vuoi raccontare Paolo? voglio dire io ho una ditta di autobus da nolleggio sì praticamente siamo fermi con lavoro non abbiamo lavoro è nessun aiuto aiutaci un po' a capire Paolo il vostro mercato facciamo il turismo ok questo volevamo capire facciamo il turismo non riprende assolutamente da dove venivano i clienti nel vostro caso? arrivano da tutto il mondo arrivavano arrivavano con gli aerei andavamo a prendere gli aeroporti li portavamo in giro facevamo i tour quindi l'uomo e noi le luide turistiche tutti siamo tutti fermi nessun aiuto tu hai a disposizione diciamo degli autisti e fai in modo i mezzi i costi ormai li stiamo lasciando a casa a tutti perché tutte le aziende stiamo chiudendo Paolo sai perché ti abbiamo fatto queste domande altrimenti le persone non capiscono quest'estate chi è andato in vacanza ha visto qualsiasi posto in Italia stracolmo di gente ma come Paolo al mare esatto allora al mare però nelle città d'arte il lavoro non c'è non c'è il lungoraggio Paolo non c'è bisogno perché altrimenti poi ognuno di noi inevitabilmente vede il mondo pensando che la propria vita sia il mondo sia esattamente il mondo sono d'accordo tu lavori con i turisti a lungoraggio cioè coloro che arrivano io faccio turisti faccio servizio scolastico Stati Uniti le scuole adesso sta facendo però anche quelle con gli orari che hanno messo abbiamo pochi clienti perché tanti ragazzi dicono fanno magari mezza giornata o mezza una settimana sì una settimana no sempre devi andare a prendere però insomma però il giro è diverso è più però credo che la via imboccata da Paolo sia corretta è quella del trovare delle alternative con quello che ha a disposizione solo che sai cioè i mezzi e quindi qualcosa però qualcosa d'altro si può trovare cominci a lavorare che ne so con i pellegrinaggi con l'Italia ci sono il problema che non può andare all'estero perché se ti mettono in quarantena lo fai fare i pellegrinaggi italiani bisogna andare da padre Pio bisogna sperare Paolo che riprenda il turismo anche a medio e a lungo raggio questa è la verità ma te l'era duro eh ma sarà difficile no beh riprenderà 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 purtroppo io poi faccio servizio scolastico io quando salgono i ragazzi la mascherina certo provo la febbre prima di salere vedi il pulma di legna salgono tutti nessuno gli prova la febbre nessuno fa niente e quindi però non una concorrenza sleale anche questa si lamentano in tanti anzi anche di questo Paolo ti capiamo però capiamo anche che non si può rinunciare al trasporto pubblico adesso tu la definisci concorrenza sleale è vero che tu hai degli obblighi che sull'autobus della municipalizzata non c'è non vengono fatti la rilevazione della temperatura è questo ovviamente per te è un costo oltre che un fastidio in bocca al lupo Paolo speriamo che il turismo riprenda guarda con tutto il cuore grazie va bene ciao un abbraccio resisti ciao Paolo oggi è mercoledì 30 settembre come mi faceva correttamente notare Giuliani siamo alla fine anche di settembre ce lo stiamo lasciando alle spalle non è difficile tra poche ore sì bastava fare un conto perché non c'è manco il 31 quindi finisce oggi e vi abbiamo accompagnati tra le 6 e le 7 Fulvio e Dio adesso a Roma ci hanno raggiunto Piero Gidiaco buongiorno ciao Giussi buongiorno Fulvio ma il countdown di Natale non inizia ancora tra poco ne parlavamo l'altra mattina lo sai io e Giussi sì sì in onda no perché gli ascoltatori cominciano a chiederlo cominciano i primi freddi salutiamo anche Galanto buongiorno Massimo buongiorno manca poco in effetti praticamente fatto sto già piangendo va bene tre mesi appunto comodi no poco meno dai e il Natale dell'editoria la mattina lo facciamo tutti i giorni con Giacalone il nostro Gesù Bambino buongiorno Davide ragazzi ma neanche le vecchie zie inglesi appunti alterici non riescono a discettare del tempo così buongiorno complimenti però ci vuole classe riconoscilo riconoscilo permettetemi solo una parentesi personale un saluto alla mia figliuola che oggi è un piccolo interventino probabilmente all'ascolto mentre sono piccole cose della crescita allora Corriere della Sera è sole 24 ore Davide per cominciare leggiamo gli industriali incalzano Conte ieri l'Assemblea Generale di Confindustria a Roma Bonomi chiede la revisione del reddito di cittadinanza sole 24 ore come dire in questo caso si gioca in casa Bonomi coraggio e visione in un grande patto per l'Italia ma insomma sul reddito di cittadinanza ne abbiamo parlato per due giorni lo riconosce il presidente del consiglio che così com'è è solo una misura assistenziale ma financo di Maio riconosce che le riforme hanno bisogno di tanto in tanto di una messa a punto che è il massimo che può dire diciamo un esponente del partito che sul reddito di cittadinanza ha puntato tutto quindi quella roba lì in qualche modo sarà affrontata vi dico subito secondo me non sarà cambiata la sostanza rimarrà quella ma insomma continueremo a parlarne ieri il presidente Confindustria Bonomi ha diciamo lanciato l'idea di un patto per l'Italia e quindi ha detto al governo ma insomma dobbiamo mettiamoci a lavorare assieme sull'uso dei fondi degli ulteriori fondi europei perché è un'occasione irripetibile per l'Italia questa cosa che è un'occasione irripetibile ormai la ripetiamo talmente tante volte che comincia a stufare anche solo a sentirla ma il punto qual è perché poi alcuni ce lo fanno anche osservare i piani per l'uso di quegli ulteriori fondi devono essere presentati entro il 15 di ottobre siccome come ricordava acutamente Giuliani questa mattina svegliandosi stiamo finendo settembre non siamo ancora in ritardo naturalmente essendo il 15 di ottobre come questo mi pare anche questo nel mondo dell'ovvio il punto è che non c'è niente cioè le linee guida sono acqua fresca e tendenzialmente torbida non dicono nulla di interessante gli industriali dicono ma perché non ci mettiamo attorno a un tavolo e facciamo un patto per l'Italia il periodo democratico dice al governo di cui fa parte ma quando è che arrivano i piani non è che devono arrivare il 15 di ottobre e uno se diciamo le butta giù il 14 di ottobre questo è il ritardo questa è la questione cioè di questo non si parla quindi e varrebbe la pena parlarne una sola ulteriore osservazione tra le tante cose dette ieri da Bonomi all'assemblea di Confindustria c'è anche che non vedo ripreso dai giornali l'idea per i lavoratori dipendenti dice ma perché l'IRPEF non facciamo che se la pagano da soli nel senso che oggi il lavoratore dipendente ha un sostituto di imposta che è nel suo datore di lavoro che paga le imposte al suo posto non è che gliele paga cioè i soldi sono sempre del lavoratore non è che ce li mette l'impresa solo che il lavoratore non versa al fisco perché è il datore di lavoro che prima di dargli i soldi versa la parte che tocca al fisco sempre soldi del lavoratore solo che questo modo di procedere finisce con rendere i lavoratori dipendenti meno sensibili a quanto costa il fisco cosa che invece una partita IVA lo sa benissimo perché prima è in cassa e poi deve fare il bonifico dal suo conto corrente verso il fisco è giusto è corretto sarebbe bene che tutti fossero consapevoli di quanto costa effettivamente il fisco perché così tutti cominceremo ad avere più chiaro che quello che si diragisce ad altri tocca pagarlo tocca metterci i quattrini e non è poi così simpatico tra poco ci occupiamo dell'Inps del suo presidente tridico che è al centro ormai da settimane di polemiche anche molto toste che riguardano non solo il suo stipendio ieri ha parlato in merito anche il presidente del Consiglio Conte ce ne occupiamo tra poco dopo le informazioni sul traffico via radio via radio da autostrade per l'Italia una buona giornata da Daniele Prosperoni circolazione pendolare sostenuta nelle aree urbane di Roma e Milano apriamo con la situazione sulla A4 Milano-Brescia dove a causa del traffico intenso segnaliamo code tra Piero e Cormano verso Brescia e code a tratti tra il bivio per la tangenziale est e via Lecertosa verso Torino con tempi di percorrenza in questo caso di circa 25 minuti rispetto ai 10 minuti abituali situazione simile nella capitale sulla diramazione di Roma Sud dove tra Torre 9 ed il grande raccordo anulare verso il centro ci sono code di un chilometro a causa del traffico intenso sul raccordo stesso mentre per la rete non gestita da autostrade per l'Italia sul tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est sempre verso il centro sono 5 i chilometri di coda a causa del traffico congestionato bene queste erano le notizie principali da Autostrade per l'Italia buon viaggio grazie grazie il prossimo appuntamento nell'edizione delle 8 del nostro giornale orario allora Davide pagina 8 del quotidiano il messaggero anche il PD è stufo di Tridico troppi infortuni del professore è intervenuto Conte già l'altro ieri in cui diceva che non sapeva nulla dell'aumento di stipendio e poi dice urgono accertamenti e poi ieri ha rincarato la dose dicendo adeguato il nuovo stipendio ma ci sono ancora tanti cittadini che ancora aspettano la cassa integrazione Tridico lavori anche di notte per superare questo problema aggiungo che Tridico ha anche assunto una portavoce nelle ultime ore a te sì allora molto brevemente sulla questione di retribuzione abbiamo detto ripetuto fino al primo istante 62 mila euro per il presidente Linps sono troppo pochi e quindi è giusto aumentare salvo il fatto che devi farlo in maniera trasparente ed è complicato farlo dopo essere arrivati lì dicendo che bisogna tagliarlo il monumento mentre gli italiani invece se lo vedono diminuire seconda questione a Palazzo Chigi erano perfettamente al corrente sia dell'aumento sia della retroattività come dimostrano i documenti di Palazzi firmati dal sottosegretario Fraccaro del Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi punto perché questo è veramente diciamo pestare l'acqua nel mortaio non c'ha alcun senso il punto è che ieri il presidente del consiglio intervenuto sempre all'Assemblea Generale di Confindustria è stato sulla questione che sollevavamo ieri mattina circa i conti diciamo i numeri sta cassa integrazione è stata pagata non è stata pagata è vero a parte qualche eccezione che ci può sempre essere ma ci sono fasce scoperte l'Inps nega è presente così ha detto sì ma c'è tanta gente che non ha ancora avuto la cassa integrazione e ha aggiunto testualmente che sulla questione della cassa integrazione l'Inps lavori giorno e notte ma se il rimedio ai ritardi è lavorato giorno e notte è segno che i ritardi ci sono perché non si è lavorato abbastanza questa è la questione non 62.000 150.000 perché se c'è gente che non ha ricevuto quello cui ha diritto e sono tanti in ragione del fatto che l'Inps non ha lavorato abbastanza diciamo che potenzialmente gliene diamo anche 300.000 di euro l'anno per lavorare ma potenzialmente gli suggeriamo anche di cambiare mestiere a un altro 300.000 a un altro oppure se la responsabilità non è dell'Inps che l'Inps richiama la responsabilità chi di dover sono le parole del Presidente Consiglio ha detto lavorate di più quindi evidentemente pensa che sia lì il problema tra l'altro Davide in molti casi le hanno anticipate le aziende allora quello dell'anticipazione delle aziende è un'altra questione diciamo ancora è un'infezione ulteriore nel senso che in parte è stato chiesto alle aziende di anticipare le aziende che hanno cassa lo hanno fatto lo hanno fatto per andare in conto ai lavoratori ma non è che la restituzione avviene per cassa non appena ci sono i quattrini che uno dice vabbè scusami Pierluigi non c'ho ancora un momento mi anticipi per favore che te li ridò no gli dici allora Pierluigi tu hai anticipato per me la volta che mi dovrai dei quattrini te li scalo te li scalo eh no perché allora a quel punto eh no perché a quel punto togli cassa alle aziende questo è il momento di crisi è l'ultimo delle cose che devi fare appunto ci segnali su Repubblica un titolo sulla prima legato a bollette di luce e gas in realtà sono tratta anche da quello più grande graficamente sopra questo quindi leggo entrambi fisco addio alle aliquote questo è il titolo più grande graficamente su Repubblica a cui segue poi maxi aumenti per le bollette di luce più 15,6% e gas più 11,4% di che parliamo? allora della questione dell'aliquote ne abbiamo parlato ne continueremo a parlare perché tanto se cominciamo ad annunciarlo ogni giorno ci facciamo tutti quanti prendiamo un master in fiscalità prima che sia approvato la questione delle bollette viene alcuni giornali diciamo riesumano il termine di stangata perché in effetti la luce dovrebbe avere avrà un incremento del 15,6% mentre il gas dell'11,4% completezza dell'informazione però vuole che si ricordi che nel corso dei mesi precedenti e trimestri precedenti ci sono stati dei maxi ribassi cioè alla fine della fiera nel 2020 la bolletta media costerà meno che nel 2019 perché adesso si registrano i maxi rialzi perché 15,6 è un maxi rialzo ma nella stessa materia c'era stato un ribasso del 18,3 per esempio in un solo trimestre quindi le cose vanno messe assieme certo tutte le cose che devi pagare se non aumentano sei più contento tra poco ancora qui su RTL 125 Davide Giacalone RTL 125 è in televisione al 36 del tuo telecomando la tua radiovisione con Davide Giacalone adesso andiamo sulle prime dei quotidiani sportivi oddio Davide avremmo potuto scegliere qualsiasi quotidiano naturalmente politico allora la gazzetta dello sport la A va avanti il calcio vuole continuare a giocare ma teme di scoprire altri positivi corriere dello sport Juve Napoli sul filo covid oggi l'esito dei test sui giocatori azzurri che hanno affrontato il Genoa domenica Genoa con 14 positivi in totale fra giocatori e staff match clou di domenica sera a rischio allora sul calcio appena si tocca il calcio e tutti devo dire sentono profumo di riflettori eh Davide hai notato ieri? è arrivato l'esperto che ha detto ecco i tamponi non servono a niente il Genoa l'ha dimostrato calmi possiamo appellarci infetticolo infettivologo Bassetti esatto tra l'altro direttore dell'ospedale Genova qua l'ha detto è stata la Waterloo dei tamponi ora noi dobbiamo deciderci due cose dobbiamo intanto quelli sono gli strumenti che abbiamo trovo che sia estremamente positivo per esempio leggere sui giornali oggi che i tamponi saranno fatti a tappeto nelle scuole sono giorni che lo ripetevamo ma non perché fosse originale perché se devi seguire una roba riapri le scuole che è un rischio lo sappiamo tutti che lì si corrono dei rischi allora concentra anche l'attenzione su questo ma non sono perfetti lo so guardate lo sanno anche gli infermieri l'ho fatto quattro giorni fa il tampone e naturalmente anche per sdrammatizzare quando ti danno il risultato che dicono venti minuti fa lei non aveva problemi nel senso che è evidente che c'è questo aspetto però non è che abbiamo tante altre cose non è che mi posso fare leggere la mano il punto qual è è che da una parte io capisco per carità i riflettori cambiano tutti anche questo microfono che ho davanti finisce con in qualche modo cambiare il mio modo di esprimere il microfono che avete voi e così via però ecco se fai l'infettivologo se fai soprattutto se rilasci interviste in camice bianco cerca di avere un approccio meno ruvido alle cose di quello che pensi ma non c'è bisogno la lite fra infettivologi la rissa fra infettivologi diciamoci la verità sfaure l'erdicolo e dall'altra parte dobbiamo cambiare atteggiamento a noi non è che quando uno vede un camice bianco con il microfono davanti adesso ascolto la verità scientifica no perché se fosse così allora saremmo già diciamo fondatori di una nuova religione denominata scientismo che automaticamente 15 secondi dopo essere fondata avrebbe i suoi scissionisti i suoi retici perché? perché c'è qualcun altro che la pensa in modo diverso quindi dobbiamo essere tutti un po' precauzioni controllo dice ma questo vale per risolvere in maniera assoluta il problema dice no guardi non esiste risoluzione assoluta di questo problema sembrerebbe poterlo essere forza speriamo il vaccino che al momento manco c'è quindi cerchiamo di convivere anche con la ragionevolezza Davide in un minuto un commento a questa storia tremenda che arriva da Lecce ho ucciso Leonora e Daniele perché erano troppo felici questa è la spiegazione che avrebbe dato questo ragazzo che ha confessato un 21enne studente di infermieristica e PM hanno detto azioni programmate realizzate senza pietà oggi sul Corriere della Sera lo psichiatra Claudio Mencacci fa una riflessione dice questo è il vereno dell'invidia che si amplifica via social tant'è che lui ha detto ha scritto sui suoi social con la vendetta ti senti soddisfatto ma sai voglio dire questa è un po' come la storia degli infettivologi perché ce ne sono diversi psichiatri che oggi diciamo analizzano e saranno tutte persone che non hanno mai incontrato il soggetto di cui parlano io anche questo diciamo in qualche modo mi lascia stupito capisco quelli che devono scrivere per mestiere ma se fai lo psichiatra dice come sta messo oggi Giacalone me lo fate incontrare e così diciamo ci posso parlare vabbè e questo amen se fossi l'avvocato difensore di questo signore naturalmente invocherei l'infermità mentale se fossi il pubblico ministero gli direi no guardi ha programmato tutto si è scritto come doveva farlo ha evitato le telecamere per cui mi pare perfettamente lucido a congratulazioni benvenuto in galera per il resto dei tuoi giorni Davide Giacalone grazie anche per oggi torniamo puntualmente domani una curiosità proprio al volo lui voleva parlare tanto ma domani prendiamo un impegno del Nagorno-Carabacca adesso voi potete ridere ma il tema è serio anche perché lì c'è una guerra quindi non c'è però domani Nagorno-Carabacca ne parliamo con Davide preparati Davide ci sono spazi importanti anche sui quotidiani ci mancherebbe ci torniamo ci torniamo Davide a domani buona legge a tutti Massimo Galanto ti diamo la parola come sempre a quest'ora eccoci buongiorno sui social in particolar modo su Twitter in questi minuti è assolutamente in tendenza il primo dibattito televisivo per le presidenziali americane quindi da una parte Trump dall'altra Biden quasi tutti sostengono che sia stato un brutto confronto con molti insulti e i sondaggi e anche per quello che riguarda i social pare che diano vincitore del confronto Biden ne parleremo alle 8.45 anche noi con il professor Teodori ok Trump Biden poi ne parleremo lo ricordavamo poco fa però devo dire da ieri ho visto una valanga di commenti mi fa molto piacere su e di sostegno a Vanessa Incontrada beh sì la copertina di Vanity Fair assolutamente tra l'altro Massimo credo sia in tendenza anche lei assolutamente sì perché ha posato appunto sulla copertina di Vanity Fair completamente nuda è ovviamente un messaggio che ha voluto lanciare per quanto riguarda body positive così si dice cioè fondamentalmente dire alle donne ma in generale a tutti che bisogna rispettare aver cura e soprattutto accettare il proprio corpo lei dice proprio questo accettare il proprio corpo e la trasformazione del proprio corpo lei ovviamente parte da quando ha avuto sua figlia devo dire è stata molto coraggiosa perché sono anni che fa questa battaglia magari dite la vostra 378 378 125 come ogni mercoledì l'appuntamento con la fortunata rubrica il posto in fabbrica in collaborazione con Confindustria oggi vede ospite sicurezza etica che è nata a Roma nel 2015 un'azienda specializzata in allarmi antincendio e antintrusione che più di recente si è orientata anche sui processi di sanificazione anti-covid da inizio 2020 per rispondere alla pandemia ha avviato anche un reparto di ricerca e di sviluppo da qui è nato il brevetto Sunny City si dice così particolarmente utile negli ospedali e sui luoghi di lavoro ha 24 dipendenti negli ultimi mesi ha assunto 10 persone e ne cerca con urgenza altre 12 noi abbiamo il privilegio di avere in studio questa mattina il suo amministratore delegato qui a Roma Roberto Desclavis Roberto buona giornata e benvenuto buona giornata e grazie a voi che bella storia 5 anni di vita ma 5 anni intensissimi una crescita mostruosa in termini percentuali 12 persone da cercare e trovare subito e allora entriamo nel vivo senza perdere tempo chi cercate qualifiche eventualmente anche esperienza pregressa età ci dica allora sì cerchiamo queste 12 figure divise nei nostri tre settori nel settore sanificazioni nel settore vigilanza e nel settore dell'impiantistica per ciò che concerne l'impiantistica necessitiamo di 4 tecnici specializzati appunto per ciò che concerne impianti d'allarme impianti elettrici per la vigilanza siamo in cerca di persone di operatori con attestati BLSD e primo soccorso anche con cosa significa BLSD è sempre collegato al primo soccorso quindi comunque cerchiamo operatori che possano stare sui set cinematografici piuttosto che la gestione di grandi eventi collegati anche al covid management quindi controllare la temperatura delle persone sul set o comunque sui luoghi di lavoro controllare che vengano sempre comunque monitorati a livello di tamponi e test insomma il controllo e la gestione del covid management e 4 figure nel settore pulizie perché è un'area che noi abbiamo sempre avuto già dal 2015 ma che comunque stiamo appunto sviluppando con quello che è il progetto Sunny City e sta piacendo molto è in forte espansione pertanto ecco stiamo cercando anche 4 operatori anche questo per servizi di pulizia certamente allora Descalavis due cose c'è una zona geografica specifica in cui saranno impiegate queste 12 figure la prima e la seconda volete figure già preparate o poi avete del tempo per formarle allora per ciò che concerne la zona geografica la sede sarà qui a Roma con la maggior parte del lavoro su Roma ma che comunque siano persone anche disposte a spostarsi nel nord Italia noi anche adesso a Milano e Med abbiamo dei lavori in essere delle importanti strutture ospedaliere con le quali stiamo collaborando e quindi comunque devono avere anche questa attitudine la seconda domanda se devono avere una formazione oppure no allora non c'è problema nel senso che qualora dovessero presentarsi delle persone con già una formazione ben strutturata siamo pronti a partire altrimenti al nostro interno e questo fa parte sempre di quel progetto di cui sopra sui quali noi abbiamo investito molto abbiamo al nostro interno delle strutture che possono fare la formazione al personale sia per ciò che concerne la gestione del lavoro in questa fase critica e anche poi ovviamente per la loro formazione professionale per ciò che andranno a svolgere dopo scusi la domanda l'età anagrafica è una come dire è una condizione in merito oppure no è aperto a tutti allora è aperto aperto a tutti noi al nostro nel nostro organico abbiamo persone che vanno dagli under 30 anche agli over 50 per cui noi siamo veramente un'azienda che dà possibilità opportunità a tutti quanti senza senza problemi dottor Desclavis ricordiamo innanzitutto per candidarsi www.unimpiego slash il post in fabbrica oppure ovviamente il sito dell'azienda sicurezza etica il classico lavora con noi o quello che sarà nel vostro caso prima di salutarci è un passaggio per noi fondamentale lo abbiamo accennato nell'anticipare la chiacchierata con lei che cosa lei quando ovviamente non sarà la prima persona a incontrare i candidati ma prima o poi li incrocia che cosa vuole vedere negli occhi di queste persone giovani e meno giovani beh allora quello che vorrei vedere quello che abbiamo avuto lo stesso sguardo che abbiamo avuto noi soci a inizio febbraio quando abbiamo iniziato a capire quello che poteva succedere intorno a noi e quindi quella voglia di fare quella voglia comunque di andare avanti nonostante le brutte notizie che arrivavano con la speranza anzi più che la speranza la certezza che saremmo saremmo arrivati a qualcosa di bello a qualcosa di grande e delle persone che hanno voglia di rimanere con noi io ho constatato che comunque in questi questi mesi di colloqui che abbiamo fatto tutte le persone che noi abbiamo incontrato è stato ce ne siamo accorti subito se erano quindi coraggio passione e fedeltà insomma questi tre ingredienti voglia un po' di mettersi in gioco voglia di mettersi in gioco non avevamo parlato ma l'avevamo anticipato è la filosofia che ci deve accompagnare nei mesi a venire quando conviveremo lei ha tirato su con i suoi collaboratori il progetto Sunny City e quindi ha provato a creare un'area di business legato alla pandemia e così fa un'azienda che deve adattarsi alla realtà quindi complimenti no grazie anzi se ne approfitto per ringraziare tutti i nostri i nostri operatori le persone che lavorano e collaborano con noi perché il nostro obiettivo nel creare il progetto Sunny City è stato è stato quello di di aiutare loro nel senso che abbiamo voluto dargli l'opportunità di non perdere quei giorni che di non perdere neanche il posto di non perdere neanche il posto di lavoro esattamente quindi il creare il creare Sunny City è stata l'opportunità per loro anche dopo di recuperare tutto il tempo il tempo passato e questo do un grande merito a Guido Congiu che è il nostro direttore commerciale che è stato bravissimo grazie davvero grazie per questa proposta lo ricordiamo 12 posti disponibili potete scrivere anche a sicurezzaetica.com si da subito che è un altro tema oppure possiamo scrivere al nostro sito www.unimpiego slash il post in fabbrica grazie Roberto Desclavis in bocca al lupo viva l'Italia grazie grazie noi intanto salutiamo il nostro Don Don Antonio Mazzi buongiorno Don ciao 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 oggi è una frase bella impegnativa bella la serenità è la compagna privilegiata della maturità mi piace tutti zitti la ripetiamo la ripetiamo Don Antonio il silenzio la serenità è la compagna privilegiata della maturità è bello è molto bello spesso così è maturo quando riesce a essere sereno davanti alla vita ciao Don fra poco torniamo da voi allo 0 2 25 15 15 chiamateci subito il tema che vi ha appassionato che abbiamo sfiorato prima quello sono tanti messaggi che sono arrivati Giuse sì proprio sulla questione Vanessa incontrada l'accettarsi addirittura avere il coraggio di farsi fotografare senza veli su un settimanale molto noto insomma ci piacerebbe un parere vostro in diretta tra pochissimo quindi prenotatevi appunto allo 0 2 25 15 15 torneremo fra i vari temi anche sul duello televisivo tra Biden e Trump ma torneremo anche sul caso incontrada tra pochissimo adesso un po' di auguri per aprire l'ora e proprio sul tema incontrada diciamo che in qualche modo oggi compie gli anni Monica Bellucci ne ha 56 e certamente non stiamo parlando di una sottilissima e che si è accettata proprio anche col passare degli anni non avrà fatto fatica non avrà fatto eppure non so galanto che ne dici beh si così a naso però anche l'ha incontrada molto bella ha fatto fatica perché si è sentita molto spesso giocavamo sulle curve della Bellucci appunto ci sono i meravigliosi 70 anni di Renato 0 auguri che meraviglia ciao Renato assolutamente che dicevi Pierluigi su Vanessa e la Bellucci no no dicevo che sono gli altri ad aver creato un problema non certo lei io penso che e lei ne ha sofferto ehm sì insomma sì pare di sì ne hanno sofferto secondo me più gli altri giudiconi cioè quelli che si mettono in carattere col ditino puntato però vivere sotto giudizio non deve essere facile poi ci torniamo poi con gli ascoltatori ci sono i 60 anni di Giorgio Panariello auguri della Costa 68 Massimo Bottura 58 auguri San Girolamo auguri a tutti Girolamo e poi credoci c'è un augurio Massimo no no oggi nulla nulla da segnalare anche oggi niente il tuo ruolo si perde nell'aeree sentite l'afforismo eh vabbè che una volta a settimana mi sembra uno sforzo vai vai alcune persone hanno così tanto rispetto per i propri superiori che non ne hanno conservato più per se stessi niente male allora come si fa ad accettare la trasformazione del proprio corpo questo riguarda donne e uomini anche se ovviamente la copertina in cui è ritratta Vanessa è incontrata su Vanity Fair si rivolge per lo più al pubblico femminile ne parliamo con Elio che è già collegato con noi Elio buona giornata e benvenuto da dove ci chiami Torino Torino innanzitutto voglio dirvi che RTL ci fa piacere Elio allora che pensiero hai sviluppato su questa questione ma guarda in un periodo come stesso dove diciamo il pensiero effimero e le cose futili e la ricerca smodata del 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 bello fatto in una certa maniera le donne belle delle delle sfilate questo secondo me è un messaggio forte perché arriva da una persona che posso ricapire anche sui social ma questo si sa anche da altre fonti è una persona simpatica a tutti o comunque al 90% cioè quindi parliamo di una persona che può mandare un messaggio chiaro e pulito senza secondi fini è importante perché sempre più ragazzi ragazzine ragazzine alla ricerca di dell'esternità e l'esternità questa ricerca può portare anche a deragliare può essere pericolosa è vero è vero caro Elio il tuo telefonino ci sta un po' mollando quindi ti chiediamo scusa ma il concetto è arrivato prima di perdere il collegamento grazie a Elio da Torino i telefoni aperti hanno portato anche Anna Maria da Monza voler dire la sua sulla copertina di Vanity Fair è quella che di fatto diventa non solo un messaggio ma anche una battaglia condotta da Vanessa in contrada cara Anna Maria benvenuta buongiorno buona giornata che bella voce anche mia sempre mia tutti i giorni felice di sentirvi ma io dico solo una cosa secondo me ormai la normalità è l'alternativa quindi io penso che accettarsi è una questione di maturità sicuramente non è semplice a volte io parlo da donna ho 55 anni e quindi mi sono ritrovata se parliamo proprio fisicamente in un corpo che fino a un po' di tempo fa non era il mio diciamo così però uno deve imparare ad accettarsi e il fatto che Vanessa abbia messo una copertina e si sia messa nudo proprio in tutor secondo me è solo da battere le mani secondo te aiuta aiuta appunto le persone come te che si sono trovate in un corpo che non riconoscono ma sicuramente è una bella cosa da vedere a parte che è una bellissima donna intelligente quindi già questo per me fa tanto ma secondo me sì perché ormai il giorno d'oggi non si è magrissima se non si porta la 38 se non si è e invece no non è così deve subentrare la personalità capisco che in una ragazzina non è semplice in una donna è già diverso non c'è dubbio secondo me aiuta Anna Maria grazie per essere intervenuta grazie anche a Elio faremo sempre più spesso questi confronti su stretti temi di attualità e di costume grazie per essere stati con noi tra pochissimo parleremo dell'ultimo libro di Massimo Franco dal titolo L'Enigma Vergoglio la parabola di un papato ovviamente che apre un dibattito rispetto al papato di Papa Francesco ma invece vogliamo ricordarvi che per vivere i momenti migliori di Power It's Estate 2020 l'Arena di Verona seguite i nostri canali social e andate su RTL.it ebbene lì troverete i video dell'esibizione il backstage la gallery con tutti gli artisti naturalmente la serata intera Power It's Estate 2020 la tua musica come non l'hai mai vista RTL 125 è in televisione al 36 del tuo telecomando la tua radiovisione lo dicevamo poco fa adesso parliamo di Papa Francesco figura amatissima come non capitava da anni eppure contrastata all'interno del Vaticano e non solo capace di dividere in schieramenti anche talvolta ferocemente contrapposti i cattolici e poi la politica estera con problematiche che ben conosciamo ne parliamo con Massimo Franco editorialista di straordinario valore del Corriere della Sera in libreria con l'enigma Mergoglio la parabola di un papato per Solferino Massimo Franco buongiorno e benvenuto buongiorno e grazie a voi per l'invito buongiorno Franco è una tesi molto interessante quella che lei sostiene in questo libro ovviamente si parte dal fatto che Francesco era stato chiamato perché il modello di governo della chiesa precedente aveva fallito poi lui ha cercato di sostituire quel modello con un altro che lei chiama modello Santa Marta nel libro che però lei sostiene scivolato in un modello di potere personalistico affidato a selezioni misteriose della classe dirigente doveva essere il papa che univa invece è diventato il papa che divide è così? si diciamo che il nuovo modello che è quello di casa Santa Marta che è l'albergo dentro il Vaticano dove il papa vive era un modello basato molto su una sorta di classe dirigente alternativa che si sostituiva a quella dei palazzi apostolici a quella tradizionale e purtroppo al di là della volontà del papa in realtà si è creata una corte parallela un'altra curia che non dialoga con l'altra che però si sovrappone all'altra e che non ha risolto il problema della classe dirigente ecclesiastica perché se pensiamo a quello che sta succedendo in questi giorni si vede che purtroppo purtroppo la trasparenza non è cambiata nel senso che è assente sia rispetto alla gestione di Benedetto XVI sia rispetto alla gestione di Francesco e questo è un grosso fallimento a mio avviso Massimo Franco però l'abbiamo definito fallimento forse questa parabola non è ancora terminata forse Francesco ha ancora Papa Francesco ha ancora dello spazio per portare un po' di trasparenza in Vaticano ma io lo spero tantissimo onestamente anche perché credo che Bergoglio avesse suscitato molte speranze molte speranze e purtroppo il grosso rischio è che vengano deluse io ho l'impressione che sia un po' tardi perché sia il caso Beccio sia quello che sta venendo fuori in questi giorni e dicono che evidentemente in questi sette anni e mezzo di pontificato qualcuno non è stato abbastanza vigile non ha saputo scegliere le persone giuste e adesso si ritrova spiazzato e costretto a rincorrere e ad affidarsi alla magistratura per cercare di mettere delle pezze rispetto a una situazione abbastanza sconcertante per il mondo cattolico quindi sì io lo spero tanto temo che sia tale Massimo Franco la politica estera accennavamo anche qui profonde divisioni contrasti recentissimi con l'amministrazione Trump un giudizio sulla politica estera del Papa che a volte in Italia ce ne dimentichiamo ha un grande valore sul piano internazionale se non altro in termini di immagine una moneta da spendere beh diciamo che il Vaticano è l'unica realtà internazionale che ci sia in Italia molto più del nostro Stato purtroppo devo dire che questo è un Papa che anche in questo in questo campo ha innovato molto perché è un Papa latinoamericano non europeo non italiano e quindi non identificabile con la guerra fredda e questo gli ha permesso all'inizio del pontificato soprattutto di dialogare con mondi che prima diffidavano del Vaticano parlo in particolare della Cina che non lo considera un pupazzo degli Stati Uniti come atteso a fare in passato solo che questo ad esempio questo accordo segreto con la Cina che verrà rinnovato in questi giorni e che dura due anni ha anche scoperto un po' un punto debole perché che prevede per chi non lo sapesse perché molti non seguono cosa prevederebbe questo il problema è che nessuno ne conosce il contenuto perché la Cina ha preteso che fosse segreto e il Vaticano ha accettato questa segretezza con un costo piuttosto pesante in termini di immagine perché quando il segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che se il Vaticano conferma questo accordo segreto perde la sua integrità morale compie un gesto di ingerenza piuttosto rozzo ma anche abile perché sa che il Vaticano non ha detto una sola parola per difendere i protestanti di Hong Kong repressi dai cinesi e quindi questo rende il Vaticano esposto alle critiche sia dall'interno della Chiesa sia della comunità internazionale occidentale per spiegarlo ai nostri ascoltatori è un accordo che ruota intorno al rinnovo per la nomina dei Vescovi in Cina raggiunto dal Vaticano con Pechino e che sarà rinnovato a breve sì perché è stato fatto nel settembre 2018 l'unica cosa che si sapeva era che durava due anni e poi si doveva in caso rinegoziare col Covid non c'è stata una rinegoziazione ufficiale tacitamente viene rinnovato altri due anni qual è il problema che il Vaticano ha ottenuto una cosa importante e cioè che si rompe la contrapposizione tra Vaticano e Cina sulla nomina dei Vescovi perché la Cina nominava i suoi contro il Vaticano ma la controparte è però che in qualche modo la Cina nomina è d'accordo col Vaticano ma decidendo poi la Cina in realtà quali sono questi vescovi escludendo quelli che sono contro le regioni cinese quindi è una storia molto intricata e ancora misteriosa che credo riserverà altre sorprese certo è affascinante è affascinante è anche un po' intricata come dice giustamente l'idea che la Cina possa pesare nella scelta degli uomini indicati ricordiamo che il Vaticano era arrivato a essere costretto a nominare in segreto i Vescovi in Cina perché poi per non esporli alla esatto per non esporli alla persecuzione pensate da che situazione si partiva grazie davvero alla giornalista scrittore Massimo Franco lo ricordiamo in libreria con l'enigma Bergoglio la parabola di un papato buon lavoro e a presto grazie buon lavoro a voi senti Giusy allora ti è mai capitato di fare yoga nella tua vita? ma sì certo più volte sai che il Financial Times in questi giorni ha rivelato che lo yoga è la disciplina del benessere più diffusa nelle città europee e proprio in questi giorni si stanno organizzando a Milano due weekend in materia dove si sosterrà una tesi per tutte le persone che magari non conoscono non hanno mai praticato diciamo così tutto questo questa disciplina chiamiamola così chiamiamola come si deve ragione cioè camminare e respirare e soprattutto farlo nei boschi e all'aria aperta in America c'è da anni è certo e l'abbiamo portata in Italia bravo quindi insomma è un invito ovviamente a chi ha voglia di così incuriosirsi di questa pratica magari a farlo non so Fulvio tu sei esperto no sono a zero infatti mentre ti ascoltavamo alzavo il dito proprio autoaccusandomi di essere veramente in questo cioè per esempio tabula rasa però in tantissimi praticano la respirazione della colomba la conosci? ma figurati astento la colomba il saluto al sole però il saluto al sole dai qualcosa l'ho visto a San Francisco infatti l'hai visto fare fatto da tantissimi cinesi secondo me è bellissimo mi piace molto sulla spiaggia davanti al mare per gli amici della radiovisione io e Pierluigi possiamo raccontare Galanto stai attento come si fa il saluto al sole vai Giussi vai vai Galanto racconta saluto al sole ma non si vede un vestito lungo perché devi comunque stare in assoluto equilibrio come un fenicottero su una sola zampa è una cosa un po' complessa io ho appurato questa mattina leggendo il messaggero Galanto come vado? siete veramente ridicoli l'aggettivo era simile a quello però bravissimo ti ringrazio moltissimo vi dicevo che stamattina ho appurato che cos'è la respirazione della colomba si inspira in otto tempi e si espira in otto tempi sempre dal naso e tutto questo renderebbe diciamo il nostro essere interiore particolarmente calmo sei un perfetto fenicottero Giuliani con le mani così mica devi schiacciare a basket scusami fai anche la colomba Fulvio perché sul fenicottero insomma meglio devo contare fino a otto andiamo in pubblicità che è meglio sì meglio per gli ascoltatori RTL 125 è in televisione al 36 del tuo telecomando la tua radiovisione davvero terribile così la CNN per esempio ha descritto il primo duello televisivo tra Trump e Biden è un dibattito quello che si è svolto a Cleveland nell'Ohio caratterizzato dal puro caos offese interruzioni una raffica di insulti anche personali tra i due candidati moderati per 96 minuti dal giornalista della Fox Wallace noi ci colleghiamo subito con il professore Teodori storico americanista che spesso su questi argomenti è ospite di Non Stop News Teodori buona giornata e benvenuto buongiorno professore fra pochissimo riascolteremo solo un passaggio un minuto in totale il passaggio in particolare sulle tasse del duello Biden-Trump un suo giudizio in generale professore sì sì io sono qua dicevo un suo giudizio in generale prima di ascoltare Biden e Trump in giudizio in generale che si può dire che chi ha perso oltre ai due contententi e tra i due soprattutto Trump ha perso la democrazia americana perché il rito delle elezioni presidenziali è sempre stato un grande rito a cui tutti quanti gli americani sono rimasti fedeli per anni e per secoli e questa volta è stato uno spettacolo che non è stato assolutamente uno spettacolo accettabile da chi crede nella democrazia elettorale e nel fatto che il presidente è il rappresentante della nazione chiaro senta quali sono stati secondo lei i temi che più hanno scaldato gli animi dei due contendenti ma questo è molto difficile dirlo perché il piano che era stato fatto dalla Fox l'organizzatrice del dibattito non è stato seguito non è stato seguito perché le continue interruzioni i continui insulti rivolti da una parte con soprattutto da Trump verso Biden ma anche la distesa di Biden che è stata fatta sullo stesso metro ha impedito un dibattito che approfondisse i temi che erano quelli delle tasse quelle del covid quelli della nomina del nuovo membro della Corte Suprema e quindi è molto difficile fare anche quello che gli americani chiamano un fact checking cioè una verifica di quello che è stato detto di vero o di falso sui singoli episodi ecco professor Teodori ascoltiamo insieme un passaggio di questo confronto scontro e poi le rivolgo la domanda sentiamo la legge sulle tasse lo ha messo nella condizione di pagare meno di quanto paga un insegnante di scuola ed è stato lui stesso ad ammetterlo trae vantaggio dalla legge fiscale ed è per questo che io eliminerò questa legge ed investirò sulle persone che hanno bisogno di aiuto la gente ha bisogno di aiuto io ho pagato milioni di dollari di tasse milioni e potete andare a vedere lo storico in un anno ho pagato 38 milioni in un altro anno 27 milioni e potrete vederlo voi stessi quando tutto questo sarà finito ci sono 180 pagine di documenti in cui sono registrate tutte le mie proprietà tutte le mie attività tutte le mie banche e sono tutte attività in positivo perché a me gli affari vanno bene sul tema delle tasse professor Teodori ovviamente insomma gira parecchio diciamo del confronto tra i due contendenti anche se Trump in questo caso si è dovuto difendere da accuse diciamo così molto dirette che riguardano la sua storia personale che già nei mesi scorsi erano apparse sulle prime pagine dei giornali americani sì perché quello delle tasse è un nervo molto sensibile dell'opinione pubblica americana è il colpo che ha ricevuto Trump da parte del maggiore giornale americano il New York Times avere scoperto che in realtà lui non ha pagato tasse in questi ultimi dieci anni perché tutte le sue aziende sono andate in negativo è riuscito a ripianare i debiti soltanto attraverso la sua attività televisiva è stato un colpo da cui molto difficilmente lui riesce a rialzarsi proprio perché contrariamente a quello che è lo stile il clima nel nostro paese chi non paga le tasse negli Stati Uniti è considerato una persona fuori legge probabilmente questo sarà uno degli elementi che affosserà definitivamente Trump abbiamo capito quindi su chi scommetterebbe i famosi 50 cents il professor Teodori staremo a vedere anche il secondo è il terzo dibattito diretto secondo lei a questo giro con un Trump di cui ormai sappiamo tutti non ci sono molte carte da scoprire e il pallidissimo oggettivamente Mike Pence vicepresidente Kamala Harris la vicepresidente candidata democratica può essere un fattore o ce la raccontiamo noi in Europa? No come sempre il vicepresidente è un elemento complementare al presidente serve per allargare il consenso di una parte dell'elettorato che il presidente non raggiungerebbe in questo caso la Kamala Harris da donna si rivolge in particolare all'elettorato femminile da persona di colore si rivolge in particolare all'elettorato di colore e quindi dovrebbe completare un po' il consenso di Biden che è un democratico centrista tradizionale che si rivolge soprattutto tradizionalmente alla classe media o media bassa anche sindacalizzata che è fedele al partito democratico quindi il ticket come si suol dire tra presidente e vicepresidente è un ticket che cerca di pescare in tutti i settori dell'elettorato professor Teodori una battuta abbiamo pochissimi secondi cosa deve fare Trump per ribaltare un po' la percezione di questo incontro nel prossimo del 15 ottobre beh dovrebbe passare dal dagli insulti da 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 fare da comportarsi come i giornali americani dicono da bullo a a uno stile più presidenziale in questo caso e lui potrebbe di nuovo allargare il suo elettorato lo vedremo il 15 ottobre grazie a professor massimo Teodori per essere stato con noi le auguriamo una buona giornata grazie a voi e buongiorno chiudiamo questa puntata quella delle mercoledì di non stop news per darci appuntamento sempre domani alle 6 dalle grenzi giuliani di acco e galanto che ritroverete nella famiglia è veramente tutto io saluto a Roma regi a indice carelli a milano ricchi di star copio ingegno fabio romano in redazione questa mattina Giovanni Perria e Maria Paola Raiola amici amici ovviamente sono consapevole di aver fatto una figura da cioccolataio con la figura dell'albero dello yoga perché siamo stati bacchettati per Luigi soprattutto l'allegrenzi che faceva il fenomeno su codo al sole è una sequenza di figure tra cui quella che stavo cercando malamente di imitare quindi va bene limitiamoci a salutare noi stessi al mattino che c'è una cosa devo dire ricordarsi il nome è sempre un successo al risveglio quindi partiamo da qui ciao a domani a cura della redazione giornalistica di RTL 125 direttore responsabile Luigi Tornari